Innotec fornisce attrezzature e diagnosi complete per officine, carrozzerie e centri in revisione, nonché attrezzature per autolavaggi. Innotec, lo specialista sempre al tuo fianco. In occasione della giornata internazionale dei diritti della donna, l'attesa ricorrenza dell'8 marzo che viene spesso esemplificata come festa della donna, ma che in realtà dovrebbe ricordare le violenze e le discriminazioni che le donne hanno subito e ancora subiscono in diversi paesi, così come le conquiste sociali che le stesse sono riuscite ad ottenere in un lento e difficile processo di emancipazione femminile, sono tante le iniziative culturali in programmazione che, in parte, interessano anche il territorio della regione Campania. Tra queste vogliamo evidenziare la doppia presentazione del libro Le donne che conquistano il mondo, da Palazzo Chigi alla Casa Bianca, pubblicato da Marlin Editore. I due autori del volume, i giornalisti professionisti Ermanno Corsi, caporedattore Rai a Napoli con oltre 60 anni di giornalismo alle spalle, e Piero Antonio Toma, saggista e collaboratore della Repubblica, interverranno dapprima mercoledì 8 marzo alle ore 18 presso l'Associazione Obiettivo Terzo Millennio a Cimitile, in via Risorgimento numero 8. Quindi presenzieranno anche il giorno successivo, giovedì 9 marzo, a Napoli, presso l'Istituto di Cultura Meridionale di via Chiatamone numero 63. Questo volume presenta le biografie di donne illustri che hanno rivestito o rivestono funzioni apicali nel mondo della politica, della magistratura, della vita civile in generale, partendo dal secondo dopoguerra per arrivare ai giorni nostri. Il numero delle donne che, proveniendo dalle diverse sponde politiche, ricoprono oggi posizioni di rilievo nei partiti e nelle istituzioni, è progressivamente aumentato, specie negli ultimi decenni, non solo in Nord Europa e negli Stati Uniti, dove il fenomeno non è nuovo, ma anche in Africa, Asia e paesi arabi. Da Nilde Iotti a Tina Anselmi, Maria Elisabetta Alberti Casellati e Marta Cartabia a Chiara Pendino, da Evita Peron a Kamala Harris, da Angela Merkel a Michelle Bachelet. Il libro, riportante in copertina una stretta di mano tra la premier italiana, Giorgia Meloni, e il presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, risulta particolarmente attuale dopo le recenti nomine di Ellie Schlein, a segretario del Partito Democratico, e di Margherita Cassano, a presidente della Corte di Cassazione. L'incontro dell'8 marzo sarà presieduto da Felice Napolitano, presidente della Fondazione Premio Cimitile, e vedrà, tra gli altri, la partecipazione dell'assessore alle pari opportunità e servizi sociali del comune ospitante, Gioselita Ruggero Malagnini. Alla presentazione che si terrà invece a Napoli giovedì 9 marzo, interverranno Elisabetta Garzo, presidente del Tribunale della città partenopea, Anna Maria Carloni, già senatrice e deputata, l'onorevole Marta Schifone, membro delle commissioni lavoro e affari sociali della Camera dei Deputati, e introdurrà il presidente dell'Istituto di Cultura Meridionale, Gennaro Famiglietti.